Carlo Conti è nato a Firenze il 13 marzo 1961 e ha avuto una carriera multifacetica che ha spaziato dalla radio alla televisione. Dopo la prematura perdita del padre a causa di un tumore ai polmoni, Conti ha completato gli studi di ragioneria all'Istituto Tecnico Commerciale e Statale Duca d'Aosta, diplomandosi con il massimo dei voti. Nonostante inizialmente lavorasse come bancario, nel 1986 ha deciso di seguire la sua vera passione per la radio. Iniziò la sua carriera radiofonica nelle prime radio private fiorentine, come Radio Studio 54 e Lady Radio, dove ricoprì ruoli di direttore artistico e conduttore. Nel 1977 fondò Radio Firenze Nova con alcuni amici e successivamente entrò a Radio Firenze 2000 come disc, giochei e speaker. La sua carriera come conduttore radiofonico iniziò con il programma Estate 2000 e tra i suoi colleghi significativi dell'epoca c'era Marco Vigiani. In seguito aprì una propria radio locale a Scandici, Radio Antenna X, e passò a Radio Diffusione Firenze, RDF. La passione e la dedizione di Conti alla radio lo portarono successivamente a un brillante percorso televisivo, dove divenne uno dei volti più riconoscibili e apprezzati della tv italiana, conducendo numerosi programmi di successo. Negli anni Ottanta Carlo Conti assume un ruolo di grande rilievo nella scena radiofonica e televisiva toscana. Dopo aver diretto Lady Radio e condotto Radionotte su un network regionale con Marco Vigiani, Giorgio Panariello, Walter Santillo e Alberto Lorenzini, Conti si cimenta nella presentazione di Un ciac per artisti domani, un programma che gli consente di incontrare Leonardo Pieraccioni. Nel 1986, insieme a Pieraccioni e Panariello, crea Succo d'arancia su Teleregione Toscana, dove il trio comico inizia a farsi notare e diventa molto popolare in Toscana con lo spettacolo Fratelli d'Italia. Nel 1985 Conti pubblica il brano musicale Through the Night con lo pseudonimo di Conti e nello stesso anno debutta in Rai con la conduzione di Hit Parade, un programma musicale estivo che sostituisce Discoring. Questo periodo segna un'intensa attività di Conti tra radio, discoteca e televisione, consolidando il suo ruolo di spalla e autore per molti comici toscani emergenti. Il suo successo continua con Vernice Fresca, un programma comico trasmesso sull'emittente Cinque Stelle, dal 1989 al 1993. Il programma, con lo stesso cast di Succo d'arancia, ottiene un grande successo, toccando un picco di 100 puntate e oltre 150.000 spettatori per ogni episodio e vince anche l'Oscar TV nella categoria delle emittenti locali. Durante questo periodo Conti partecipa a diverse produzioni teatrali e organizza un tour nazionale con il cast di Vernice Fresca, raccogliendo numerosi consensi. La carriera di Conti si consolida ulteriormente grazie al suo impegno e al successo ottenuto sia in radio che in televisione e teatro, segnando l'inizio di una lunga e fruttuosa carriera nel panorama dello spettacolo italiano. Dopo aver condotto un'edizione di Discoring nella stagione 1985-1986, Carlo Conti, dal 1991 al 1993, presenta su Rai 1 due edizioni del programma per ragazzi big, vincendo due telegatti e un premio Regia Televisiva. Nello stesso periodo guida gli speciali L'attesa 1992 e La festa della mamma 1993 per Lo zecchino d'oro su Rai 1 e nell'estate del 1993 co-conduce Giochi senza frontiere con Ettore Andenna e Maria Teresa Ruta, sempre su Rai 1. Nella stagione 1993-94 ritorna in teatro con Pieraccioni e Panariello con lo spettacolo Fratelli d'Italia. Fino al 1993 continua a realizzare Vernice Fresca, un programma comico con nuove edizioni su 5 stelle. Durante questo periodo appare in alcuni film di Pieraccioni come I Laureati e Fuochi d'Artificio. Nel 1994-1995-1999 conduce l'anteprima di Miss Italia. Nel 1995 crea e conduce il Varietà Comico Aria Fresca su Video Music e successivamente su TMC. Nel 1996 produce e pubblica il CD Aria Fresca, contenente la musica della trasmissione omonima, e canta insieme a Panariello con la produzione di Gianluca Sibaldi e Fernando Capecchi. Sempre nel 1996 conduce su Rai 1 con Panariello e Dong Mei lo show Sulle Mani, che raggiunge oltre 6 milioni di telespettatori. Il programma viene riproposto nell'estate del 1997 con il titolo Va ora in onda, sempre con la conduzione di Conti e Panariello, affiancati da Luana Colussi. Ivana Sabatini e Mario D'Amico sono gli autori di entrambe le trasmissioni. Tra il 1996 e il 1997 Conti entra nella rosa dei conduttori del preserale Luna Park e partecipa al quiz La Zingara su Rai 1. Nel 1997 conduce anche il gran finale di storie al microscopio, uno speciale per raccogliere fondi a favore della IRC. Nell'estate del 1998 presenta in prima serata Cocco di mamma, una gara tra giovani dai 18 ai 25 anni che competono per diventare il fidanzato ideale scelto dalle madri. A gennaio 1998, con il suo team di autori, rilancia il preserale di Rai 1 Colorado, due contro tutti, riuscendo ad aumentare gli ascolti. Dal 1997 al 2002, Carlo Conti conduce diverse edizioni del concorso di bellezza Miss Italia nel mondo. Nel maggio 1998 presenta insieme a Veronica Pivetti e Tiberio Timperi il programma musicale Sanremo Top. A partire dal settembre 1998 ritorna nella fascia preserale di Rai 1 con il quiz In bocca al lupo, ideato da lui e Jocelyn e condotto insieme a Cloris Brosca, la famosa Zingara. Il quiz, scritto con il suo team di autori, ottiene un grande successo e va in onda per due edizioni, dal 21 settembre 1998 al 24 giugno 2000. Conti lascia il programma nel maggio 2000, che verrà poi ereditato da Amadeus per la terza edizione. Nel 1999 e nel 2000 conduce la cerimonia di assegnazione dei David di Donatello. Nei primi sei mesi del 2000 è al timone del talk show Zitti Tutti. Parlano loro, che vede come protagonisti bambini dai 4 agli 8 anni, che discutono di attualità, musica e argomenti giovanili, con la partecipazione di personaggi famosi. Nella stessa stagione guida l'evento speciale di prima serata mezzanotte, Angeli in piazza. Il 31 dicembre 1999 conduce su Rai 1 Millennium, un evento di fine anno per celebrare l'arrivo del nuovo millennio. Tra il 1999 e il 2001 è anche alla guida di Sanremo Estate, trasmissione in seconda serata dopo il Festival di Sanremo. Nella stessa stagione Emanuele Giovannini si unisce al suo gruppo di autori. Nel maggio 2000 conduce l'evento speciale Il mondo è piccolo e nello stesso periodo anche Sanremo si nasce. Nelle stagioni 2000-2001 e 2001-2002, Carlo Conti è alla guida del celebre contenitore domenicale Domenica Inn. Tuttavia, queste edizioni soffrono la concorrenza di Buona Domenica, condotto da Maurizio Costanzo. Nella stessa stagione presenta il game show di prima serata Il Gladiatore, che viene chiuso dopo solo due episodi a causa dei deludenti ascolti. Il 21 luglio 2001 conduce il pilot di I Raccomandati, un talent show in cui concorrenti si esibiscono con il supporto di personaggi VIP. Il successo del pilot porta alla realizzazione di una prima edizione del programma nella primavera del 2003, seguita da una seconda edizione nell'autunno dello stesso anno. Sempre nel 2001 presenta uno speciale di prima serata in occasione del venerdì santo. Nella stagione 2002-2003, Carlo Conti conduce il castello insieme a Pippo Baudo e Mara Venier, ottenendo buoni ascolti. Nella primavera del 2003 è al timone del pilot serata bestiale e, in estate, presenta la seconda edizione del quiz preserale azzardo. In questi anni continua a condurre le serate di Miss Italia nel mondo, 2002-2004-2006. Nel 2003, dopo il ritiro di Paolo Bonolis, assume la direzione artistica e la conduzione di Miss Italia, un concorso di bellezza che presenterà anche l'anno successivo. Nella stessa stagione presenta anche l'appuntamento estivo Baciami Versilia, per due edizioni fino al 2004, e Il galà Una notte a Sirmione, 2003-2011. Dal 31 dicembre 2003 gli viene affidata la conduzione di L'anno che verrà, la trasmissione di Capodanno di Rai 1, che presenterà ogni anno fino al 2013, ad eccezione del 2009 e del 2010. Il 22 marzo 2004 Carlo Conti presenta il premio Regia Televisiva insieme a Daniele Piombi, in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo. Il 27 maggio dello stesso anno conduce lo speciale 50 canzonissime, un hit parade canoro, che ottiene un notevole successo di pubblico, vincendo la serata con oltre 7 milioni di spettatori e il 28% di share. Il programma viene successivamente riproposto in 13 versioni tematiche fino al 2007, e Andrea Lovecchio e Umberto Sebastiano si uniscono al suo team di autori. Il 21 luglio Conti guida lo speciale Gran Galà delle Gocce d'Acqua. In autunno conduce la terza edizione di I Raccomandati, con ascolti lusinghieri tra i 6 e i 7 milioni di spettatori. Dal 25 settembre al 2 ottobre riprende 50 canzonissime, che ora va in onda in due puntate al sabato sera. Nonostante gli ascolti elevati, viene superato da Maria De Filippi nelle due serate autunnali. Dopo i deludenti risultati del reality Ritorno al Presente, andato in onda nel marzo 2005, Conti conduce dal 26 marzo al 21 maggio la quarta edizione di I Raccomandati, e poi altre 5 puntate di 50 canzonissime a partire dal 28 maggio. Nell'estate del 2005 presenta la serata di moda Una Notte con e, dopo la finale del Festival di Sanremo 2005-2006, conduce Sanremo contro Sanremo, un programma dedicato alla Kermesse Canora, dove le canzoni sanremesi di sei decenni si sfidano tra loro. Nell'autunno del 2005, Conti guida nuovamente Miss Italia, che ottiene un enorme successo con quasi 10 milioni di telespettatori, e presenta anche Miss Italia Notte. Dal 23 settembre conduce altre 4 puntate di 50 canzonissime e dal 24 novembre è al timone di Machi Sei Mandrake, ottenendo un buon successo di ascolti. L'anno successivo conduce anche il galà di Miss Italia. Dal 24 gennaio al 17 aprile 2006, presenta la quinta edizione di I Raccomandati, trasmessa al martedì in prima serata con ottimi ascolti, oltre 5 milioni di spettatori e il 21% di share, e una serata speciale di 50 canzonissime, il 25 maggio. Dopo aver condotto il quiz Alta Tensione, il codice per vincere nella fascia estiva, Carlo Conti subentra ad Amadeus come conduttore di L'Eredità, il quiz preserale di Rai 1, a partire dal 4 settembre 2006. Il programma, che si conclude il 30 giugno, ottiene eccellenti risultati di critica e pubblico, con quasi 7 milioni di spettatori per puntata, e oltre il 30% di share. Carlo Conti è anche autore del programma insieme al suo staff. Tra il 2006 e il 2008, alterna la conduzione di L'Eredità con Alta Tensione, il codice per vincere, che va in onda in estate per due edizioni. Nel 2006, Conti riprende la conduzione del galà di Miss Italia, in carico che mantiene fino al 2008, anno in cui lascia definitivamente il concorso. In inverno, conduce lo spettacolo Fratelli di Test, un programma ludico dedicato a esplorare quanto gli italiani siano italiani. Nella primavera del 2007, torna in prima serata con una nuova edizione di I raccomandati, che ottiene un buon successo, e nello stesso periodo lancia I fuoriclasse, una competizione canora per talenti non professionisti, che però non avrà ulteriori edizioni. In autunno, ritorna a condurre L'Eredità, che si conclude con grande successo a maggio 2008, e riprende anche I raccomandati con ottimi ascolti, raggiungendo una media del 28% di share e tra i 5 e i 6 milioni di spettatori. Dal 12 gennaio 2008, Conti presenta il nuovo varietà I migliori anni, un programma che celebra i ricordi dei migliori anni della vita, con la partecipazione di numerosi ospiti musicali e internazionali. Questo programma, il più costoso nella storia della RAI, è ideato da Conti stesso con Ivana Sabatini e curato dal suo gruppo di autori. I migliori anni ha un grande successo e viene riproposto con altre due edizioni nel 2008 e nel 2009, ottenendo ascolti sempre più alti e battendo la concorrenza di varietà affermati come paperissima. Il successo del programma gli consente di vincere l'Oscar TV come trasmissione dell'anno. L'11 luglio 2008, Carlo Conti conduce per la prima volta l'evento di beneficenza nel nome del cuore. Il 15 settembre riprende la conduzione della settima edizione di L'eredità, durante la quale inizia una relazione con Roberta Morise, una delle ereditiere del programma. A giugno 2009, l'eredità si conclude con oltre 5 milioni di spettatori e un share del 25%. Nel 2009 e nel 2010, Conti conduce il premio Regia Televisiva. Nello stesso anno, lascia la conduzione di I Raccomandati, che passa a Pupo. Nel giugno 2009 e nel 2010, Conti presenta nuovamente nel nome del cuore l'evento benefico trasmesso in diretta da Assisi, città natale di San Francesco d'Assisi, a cui è dedicato lo spettacolo. Nel 2009 e nel 2010, conduce anche il premio Rodolfo Valentino in seconda serata, dedicato agli uomini più belli del paese ospitante, e presenta il premio Barocco, insieme a Emanuela Aureli, Bianca Guaccero, Monica Setta e Stefania Rocca. Il 7 settembre 2009, riprende con l'ottava edizione di L'eredità, che prosegue fino al 20 giugno 2010, continuando a ottenere ottimi ascolti. Il 19 novembre 2010, festeggia le sue prime mila puntate da conduttore del quiz. In questo periodo, pubblica anche il suo primo libro, Noi che... I migliori anni, che fa riferimento alla sua trasmissione di successo omonima. Nella primavera del 2010, Carlo Conti conduce una riedizione del programma Aria Fresca, intitolata Voglia d'Aria Fresca, con il cast storico di Comici Toscani arricchito da nuovi membri. Sempre nello stesso anno, presenta la dodicesima edizione di L'eredità. Il 4 settembre, conduce la puntata pilota del programma Non sparate sul pianista. Nello stesso anno, è giurato nella quinta puntata del talent show, Ti lascio una canzone, condotto da Antonella Clerici. Nel 2011, pubblica il suo secondo libro, I.I.O. che... Una sorta di autobiografia. A partire dal 17 settembre, conduce la quarta edizione di I migliori anni, che si conclude con grande successo il 29 dicembre. In estate, è giudice a Miss Italia nel mondo e il 15 giugno, conduce nel nome del cuore su Rai. 1. Dopo la conduzione del talent show Lasciami Cantare. In primavera, il 16 settembre 2011, riparte con la quinta edizione dei migliori anni. Questa edizione, sebbene ben accolta dalla critica, ottiene risultati inferiori rispetto alle precedenti, con uno share medio sotto il 20%. Il 17 settembre, ritorna alla conduzione di L'eredità, con buoni ascolti ma in calo rispetto all'edizione precedente. Il 31 dicembre 2011, riprende la conduzione dell'anno che verrà, che si sposta al Palatré di Courmayeur. Nella primavera del 2012, conduce la prima edizione del Talent Tale e quale show, che ottiene un buon successo e porta alla realizzazione di una seconda edizione in autunno con ascolti ancora più elevati e di uno spin-off intitolato Tale e quale show, il torneo. Il 10 marzo, conduce il premio Reggia Televisiva insieme a Daniele Piombi su Rai 1. Il 3 giugno, presenta il Wynn Music Awards con Vanessa Incontrada, esperienza che ripete anche nel 2013. La sesta edizione di Migliori Anni, originariamente prevista per l'autunno 2012, viene rinviata a gennaio 2013. Dal 15 settembre 2012, ritorna a condurre l'eredità. Dal 19 gennaio al 23 marzo 2013, dopo una pausa di un anno, guida la sesta edizione dei Migliori Anni con un format completamente rinnovato, il 16 settembre 2013, inizia la 14esima edizione dell'eredità. Nel 2013, la Rai annuncia due nuovi progetti con Carlo Conti. La versione italiana del format israeliano I Can Do That, prodotto da Ambra Bungieley e in onda a partire da maggio 2014, su Rai 1, e il ruolo di giurato nel talent show per comici C-Factor, condotto da Gabriele Cirilli e previsto per gennaio 2014. Tuttavia, C-Factor viene posticipato a marzo 2014. Dal 13 settembre 2013, Conti conduce in prima serata la terza edizione di Tale e quale show, che termina il 6 dicembre con ottimi ascolti. Nel frattempo, pubblica il libro Cosa resterà dei migliori anni, scritto con Emanuele Giovannini e Leopoldo Siano. Il 31 dicembre 2013, torna a Courmayeur per condurre l'ultimo spettacolo di L'anno che verrà. Nel 2014, Conti vince il premio Regia Televisiva come miglior personaggio televisivo maschile il 9 marzo. Il 13 aprile, lascia la conduzione di L'eredità a Fabrizio Frizzi. Dal 2 al 30 maggio 2014, conduce la prima edizione del talent show si può fare. Su Rai 1, il 19 maggio, presenta La partita del cuore e il 3 giugno, insieme a Vanessa Incontrada, i Music Awards per il terzo anno consecutivo. Il 14 giugno, conduce l'evento benefico nel nome del cuore in diretta da Assisi. Nell'autunno 2014, torna alla conduzione della quarta edizione di Tale e quale show, che ritrova il successo di pubblico. Dal 14 settembre 2014, ritorna alla conduzione di L'eredità fino al 31 ottobre 2014, quando lascia nuovamente il posto a Fabrizio Frizzi. Il 2 dicembre 2014, pubblica il suo quarto libro, si dice Babbo, che racconta l'esperienza dei primi nove mesi da padre. Il 25 aprile 2014, Carlo Conti viene annunciato come conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2015, previsto dal 10 al 14 febbraio. Accompagnato da Arisa Emma e Rocio Munoz Morales, quest'edizione del Festival ottiene un notevole successo, con una media del 48,64% di share e 10.837.000 spettatori, risultando la più vista dal 2005, escluso il Festival del 2012. Il successo è attribuito anche alla presenza di ospiti di rilievo, come Conchita Wurst e alle riunioni di Albano e Romina Power e degli Spandau Ballet. Dal 9 marzo 2015, Conti torna alla conduzione dell'eredità. Il 1 aprile, per fare uno scherzo di pesce d'aprile, al pubblico di Rai 1, conduce una puntata di Affari tuoi al posto di Flavio Insinna. Dal 13 aprile, è al timone della seconda edizione di Si può fare, per sei puntate. Il 4 giugno presenta insieme a Vanessa Incontrada i Wynn Music Awards per il quarto anno consecutivo e il 13 giugno conduce Con il cuore in diretta da Assisi per l'ottavo anno. Per la stagione 2015-2016, Conti annuncia la quinta edizione di Tale e quale show e una nuova edizione dei migliori anni per la primavera del 2016. Dal 21 al 26 settembre 2015, torna a condurre l'eredità. Partecipa anche al concerto del Volo in prima serata il 23 settembre e il 27 novembre conduce lo speciale Sanremo Giovani, dove vengono scelti i sei giovani cantanti delle nuove proposte. Il 23 giugno 2015, Conti viene confermato come direttore, artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2016, coadiuvato da Gabriel Garco, Virginia Raffaele e Madalina Ghenea. Questa edizione raggiunge un ulteriore successo, con una media di share che sfiora il 50%, rendendolo il Sanremo più visto dal 2005. Il 14 febbraio 2016, alla conferenza stampa finale, Conti annuncia che condurrà anche l'edizione del 2017. L'11 marzo 2016, Carlo Conti presenta su Rai 1 lo speciale Poo Amici per sempre, che celebra i 50 anni di carriera dei Poo. Il 23 aprile 2016 è quarto giudice della quarta puntata della quindicesima edizione di Amici, in onda su Canale 5. Dal 29 aprile al 27 maggio 2016, conduce la settima edizione dei migliori anni. Il 9 giugno 2016, assume la direzione artistica di Radio Rai e viene annunciato che non sarà più il conduttore dell'eredità. Il 5 e 6 settembre 2016, esordisce all'arena di Verona con Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello nello spettacolo Pieraccioni, Conti e Panariello, lo show, seguito da una tournée nei palasport di Assago, Roma, Firenze e Livorno. Dal 16 settembre, conduce la sesta edizione di Tale e quale show e il 12 dicembre presenta la serata speciale Sarà Sanremo, dedicata alla scelta delle otto nuove proposte. Dal 7 all'11 febbraio 2017, conduce per la terza volta consecutiva il Festival di Sanremo, affiancato da Maria De Filippi. Il 10 febbraio 2017, annuncia che non sarà più conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo per assumere lo stesso ruolo allo zecchino d'oro. Dona il compenso netto guadagnato dal Festival, pari a 100.000 euro, al fondo per il terremoto del centro Italia del 2016. Dal 28 aprile al 26 maggio 2017, conduce l'ottava edizione dei migliori anni. Dal 22 settembre è alla guida della settima edizione di Tale e quale show. Dal 30 ottobre al 15 dicembre 2017, ritorna a condurre l'eredità in sostituzione di Fabrizio Frizzi, che era stato vittima di un'ischemia. Conti è scelto per condurre la serata di gala per la consegna dei David di Donatello 2018, esperienza che ripete anche nel 2019. Dal 3 aprile 2018, ritorna a condurre l'eredità dopo la morte di Fabrizio Frizzi, avvenuta la notte del 26 marzo 2018. Il 13 aprile 2018, riporta in vita su Rai 1 La Corrida, il varietà ideato da Corrado. Dopo aver lasciato l'eredità a Flavio Insinna, dal 22 marzo 2019, conduce la sua seconda edizione della Corrida. L'11 aprile 2019, è protagonista, assieme a Paolo Bonolis e Gerry Scotti, dei I tre tenori in una puntata speciale del Maurizio Costanzo Show. Nella stagione 2019-2020, dal 13 settembre, conduce la nona edizione di Tale e quale show, seguita da Tale e quale show, il torneo, e dal 22 novembre, dal nuovo spin-off Tali e quali, con protagonisti le persone comuni. Il 7 dicembre 2019, conduce con Antonella Clerici la serata finale dello Zecchino d'Oro. Il 14 febbraio 2020, va in onda su Rai 1 Panariello, Conti, Pieraccioni, lo show, ultima tappa del tour con Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni. La settimana seguente, torna con una nuova edizione della Corrida, sospesa dopo due puntate a causa dell'emergenza coronavirus. A maggio, guida per il terzo anno consecutivo i David di Donatello, con una cerimonia senza premiati e pubblico in studio, a causa dell'emergenza sanitaria. A giugno, conduce in prima serata il Varietà Game Top 10. In estate, ad Assisi, presenta il consueto appuntamento benefico con il cuore insieme a Gianni Morandi. Nella stagione 2020-2021, Carlo Conti conduce a settembre i Music Awards dall'Arena di Verona in un'edizione speciale dedicata ai lavoratori dello spettacolo colpiti dall'emergenza sanitaria e la partita del cuore dallo stadio Marcantonio Bente Godi di Verona. Dal 18 settembre presenta la decima edizione di Tale e quale show. L'11 ottobre dagli Stati Uniti conduce su Rai Italia la tredicesima edizione di Neuai Canta, Festival della musica italiana di New York. Nel mese di ottobre Conti si ammala di Covid-19 come asintomatico e il 30 ottobre conduce Tale e quale show il torneo in collegamento video da casa. A causa del peggioramento delle sue condizioni viene ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Careggi a Firenze. Il 6 novembre i giurati Loretta Goggi Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello insieme a Gabriele Cirilli lo sostituiscono alla conduzione. Il 9 novembre viene dimesso dall'ospedale e il 13 novembre torna a condurre la trasmissione in collegamento da casa per poi tornare in studio la settimana successiva per la serata finale. La serata finale della 63a edizione dell'Ozzecchino d'Oro prevista per il 5 dicembre viene rimandata al 30 maggio 2021 a causa dell'emergenza sanitaria. Dal 26 dicembre 2020 al 6 febbraio 2021 conduce su Rai 1 al sabato sera Affari Tuoi Viva gli Sposi un'edizione speciale di Affari Tuoi. Il 23 febbraio 2021 conduce su Rai 1 la terza puntata di A Grande Richiesta una serata tributo ai ricchi e poveri. Tra aprile e maggio conduce la seconda edizione di Top 10. L'11 maggio 2021 conduce la 66a edizione dei premi David di Donatello seguita a fine mese dallo Zecchino d'Oro. L'8 giugno 2021 ad Assisi conduce per il 14esimo anno con il cuore nel nome di Francesco a fine mese lancia su Rai Play il Talent Tocca a Te. Nella stagione 2021-2022 conduce in autunno i Music Awards e successivamente l'undicesima edizione di Tale e Quale Show Tale e Quale Show il torneo e la finale dello Zecchino d'Oro il 5 dicembre per il terzo anno consecutivo. A gennaio 2022 è protagonista al sabato con lo show Tali e Quali una versione di Tale e Quale Show con protagoniste le persone comuni. Dal 22 aprile 2022 propone il nuovo programma The Band che non ottiene grossi consensi in onda il venerdì sera per 5 puntate. A fine stagione è il padrone di casa della serata Dall'Arena Lucio dedicata a Lucio Dalla conduce inoltre per la quinta volta i David di Donatello e per il 15esimo anno con il cuore nel nome di Francesco. Dall'estate 2022 è ideatore e autore dello show Dalla Strada al Palco in onda su Rai 2 con la conduzione di Neck. Nella stagione 2022-2023 Carlo Conti è ancora protagonista su Rai 1 conduce i Music Awards la tredicesima edizione di Tale e Quale Show Tale e Quale Show il torneo e Natale e Quale Show presenta anche la serata finale dello Zecchino d'Oro 2022 a gennaio presenta Tali e Quali e a febbraio due appuntamenti di Tale e Quale Sanremo uno spin-off in cui i concorrenti delle edizioni precedenti eseguono brani del Festival di Sanremo. Dal 28 aprile torna dopo sei anni a condurre i migliori anni. Il 10 maggio presenta per la sesta volta i David di Donatello e il 30 dello stesso mese per la sedicesima volta Con il cuore nel nome di Francesco. Il 10 giugno presenta su Rai 1 il Meeting Internazionale della Fraternità. Nella stagione 2023-2024 Carlo Conti continua con il successo su Rai 1 conduce per il 12 di in anno consecutivo i Music Awards e la tredicesima edizione di Tale e Quale Show seguiti dagli speciali Tale e Quale Show il torneo e Natale e Quale Show. A dicembre rinnova l'impegno come direttore artistico dello Zecchino d'Oro 2023 del quale conduce la serata finale e anche tra i protagonisti del documentario People from Cecchetto in onda in prima serata su Rai 1. Il 3 gennaio in occasione dei 70 anni della Rai conduce lo speciale Rischiatutto che ripropone anche a marzo con due nuove prime serate al sabato. Sempre a gennaio partecipa come intervistatore allo show di Virginia Raffaele Colpo di Luna in onda il venerdì sera su Rai 1 e guida la quarta edizione di Tali e Quali il sabato sera. Segue la seconda edizione in due puntate di Tale e Quale Sanremo. A febbraio appare nella fiction Gloria con Sabrina Ferilli nel ruolo di se stesso. Tra aprile e maggio conduce una nuova edizione in sei puntate di I migliori anni su Rai 1. Il 3 maggio per il nono anno conduce la cerimonia di consegna dei David di Donatello. Il 23 maggio viene scelto come direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo per il biennio 2025-2026 e due giorni dopo conduce al pomeriggio su Rai 1 in diretta dallo Stadio Olimpico di Roma e alla presenza di Papa Francesco la prima giornata mondiale dei bambini. Il 6 giugno per il 13 sede o anno consecutivo conduce la serata di musica e solidarietà con il cuore nel nome di Francesco in diretta da Assisi. Sempre a giugno conduce insieme ad Andrea De Logu la terza edizione del Team Summer Hits in onda per quattro serate su Rai 1. Carlo Conti vive a Firenze e ha sposato la costumista Francesca Vaccaro il 16 giugno 2012 l'8 febbraio 2014 è nato il loro unico figlio Matteo è tifoso della Fiorentina e noto anche per la sua abbronzatura molto accentuata che mantiene durante tutto l'anno grazie all'uso regolare di lampade abbronzanti l'8 febbraio